1.500 tonnellate di prodotti tra soia, mais, grano tenero ucraino sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pesaro in diverse regioni italiane perché falsamente certificati come biologici. In realtà presentavano un alto contenuto di OGM, mentre 30 tonnellate di soia proveniente dall'India erano state contaminate con pesticidi. L'indagine, coordinata dalla Procura di Pesaro, ha iscritto 23 persone nel registro degli indagati. L'operazione, condotta dalla Fiamme Gialli in collaborazione con gli uomini dell'Ispettorato Repressioni Frodi del Ministero delle Politiche Agricole, ha portato a sequestre numerose perquisizioni effettuate nella regione Marche, Emilia Romagna, Sardegna, Molise e anche in Abruzzo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i prodotti, destinati al mercato zoo tecnico e alimentare, venivano prima sdoganati a Malta, operazione gestita da una società i cui referenti erano però italiani, dopodiché i prodotti entravano nel nostro paese. Sono state coinvolte anche una decina di società, tra cui quelle moldave e ucraine, che avevano il compito di curare l'approvvigionamento delle granaglie e gli enti di certificazione ed analisi dei prodotti con sede a Fano e Sassari, di cui dovranno essere accertati ruolo e responsabilità.